In una isola piccola come Procida quanto vale il discorso della viabilità e della mobilità? Per questo l'amministrazione sta puntando soprattutto sul completamento dei lavori di questo parcheggio di Via Libertà. Un po' di disagi, Sindaco, ci sono, ci sono stati, però alla fine l'obiettivo sarà quello ovviamente positivo. Si pensa a questo parcheggio almeno dall'inizio degli anni 90, quando ci sono state le prime progettazioni con il Sindaco Aniello Scotto di Santolo. Poi nel corso degli anni si era un po' persa questa iniziativa, è stata rifinanziata nell'ambito dell'accelerazione della spesa e noi poi con De Luca siamo riusciti ad ottenere la riconferma del finanziamento. È stato un po' complicato arrivarci, tant'è che il cantiere è stato fermo per oltre un anno perché burocraticamente abbiamo dovuto spicciare più di una questione. Ma alla fine il nostro impegno ne varrà la pena perché avere l'opportunità di ospitare in un parcheggio che comunque è interrato, quindi da un punto di vista ambientale estremamente poco impattante, avere l'opportunità di ospitare una quarantina di macchine e tanti motorini ci darà la possibilità di alleggerire tutta Marina Grande da tantissimi veicoli. Quindi in un'isola piccola, come dicevi tu, come Procida, che ha degli spazi estremamente limitati, avere delle opportunità anche con queste strutture interrate ci procura un gran vantaggio. Infatti tra l'altro stiamo seguendo step dopo step attraverso le foto che pubblica sul suo profilo Facebook, quelli che sono gli avanzamenti dei lavori. Quindi ci tiene molto anche a tenere informati i cittadini, quelli che sono gli stati di avanzamento dell'operazione. Il nostro stile è un po' quello di cercare di condividere delle informazioni per far capire al cittadino quello che sta succedendo. È chiaro che il cittadino per tanti mesi si è domandato che cosa stesse accadendo con un cantiere fermo, abbiamo spiegato e adesso stiamo spiegando i vari step. Siamo a un buon punto, penso a più del 50% delle lavorazioni. È stato tutto un po' rallentato da questo inverno che a differenza di quelli precedenti è stato un po' piovoso. Però alla fine penso che anche se con molti disagi, perché lì la viabilità è un po' compromessa, però si sta portando avanti l'opera abbastanza celermente come i cittadini stessi possono verificare quotidianamente. Indubbiamente però questo poi è uno dei tasselli principali per poi rimettere mano a tutto il discorso viario e della mobilità sull'isola di Procida. È chiaro che noi stiamo cercando di fare un discorso generale, di proporre ai cittadini la nostra visione sulla mobilità, dove mettiamo al centro il pedone per gli dagli dignità e l'opportunità di godere delle nostre strade. In questo caso il parcheggio serve anche a questo, perché noi abbiamo liberato un percorso dalle macchine lì giù al porto di Procida, abbiamo fatto un percorso pedonale, però chiaramente tutte le macchine che abbiamo eliminato da questo percorso devono trovare un alternativo di parcheggio. Al momento c'è una gran confusione ai bordi della strada, è chiaro che nel momento in cui avremo l'alternativa non tollereremo più la confusione e con un discreto ordine riusciremo a gestire meglio tutta Marina Grande.